Sì, l'anno scolastico è iniziato da quattro giorni, questo è il quarto giorno di lezione, devo dire la risposta alla domanda è sì, con grande passione, grande dedizione, ma al contempo si fa i conti anche con alcune difficoltà che sono presenti nella nostra istituzione. Io in questo momento vi parlo da Brancaccio, un quartiere di Palermo conosciuto, ahimè, nel passato perché è venuto la ribalta perché qui è stato ucciso Don Pino Puglisi, il beato Don Pino Puglisi. Proprio di fronte a noi, accanto a noi, al nostro istituto sorgerà questa chiesa in ricordo di questo uomo che ha dedicato la vita al quartiere, ai nostri ragazzi contro le delinquenze. In particolare mi soffermo sul fatto che la scuola da dove io vi parlo anch'essa è un bene confiscato alla mafia. Un bene confiscato alla mafia circa 30 anni fa. Sicuramente è qualcosa di molto importante la restituzione di un bene comune che ritorna di proprietà della gente, dei nostri ragazzi, della comunità che ha voglia di rifarsi una vita lontano da queste tentazioni della mafia, dai lunghi tentacoli. Però è pur vero che questa scuola, questo edificio non è all'altezza della situazione, sono delle case ovviamente che sono state adeguate. Questo nel tempo ha fatto pagare uno scotto molto alto. Mi riferisco al fatto che circa cinque anni fa, quattro anni e mezzo fa, alcuni, circa 15 aule dei bassi di questo edificio, diciamo che venivano utilizzate come classi. Preciso che veramente già l'utilizzo come classi era al limite della sua portabilità per quello che è la nostra Costituzione, le nostre regolamentazioni perché effettivamente venivano adibite come aule. Bene, in quel tempo, cinque anni fa invece, un'ispezione ha fatto sì che non fossero più tali. Allora da quel momento è iniziato una situazione veramente difficile perché queste aule non sono state mai sostituite da altre aule in altri edifici o quant'altro. E tutto questo ha fatto sì che nel tempo questo, ovviamente, andare avanti ha creato delle difficoltà che oggi veramente sono insuperabili. Basti dire che a me mancano circa sette, otto aule e mi diceva nell'intervista cosa sta facendo. Insieme agli operatori della scuola vi dico sto spacchettando l'aula magna, sto facendo due aule, sto recuperando alcuni laboratori che sono in disuso attraverso le buone pratiche dei nostri lavoratori, quindi devo dire grandi difficoltà. Però lasciatevi dire, concludendo in maniera, diciamo, ottimista, ma non un ottimismo bacchettone come mi piace dire, ma un ottimismo serio che nasce dalla voglia e dalla passione dei nostri ragazzi con cui giornalmente affrontano la scuola. Noi abbiamo una popolazione scolastica stupenda, 1300 alunni veramente che sono l'orgoglio della nostra scuola. Noi siamo il liceo Danilo Dolci di Palermo, un liceo di scienza umana e linguistica con dei corsi di eccellenza come l'Ensabac e devo dire abbiamo una squadra di docenti veramente eccellente, del personale che lavora in maniera veramente stoica, indefessa per la comunità. Devo dire queste sono le risposte importanti, anche alla luce delle parole dette dal nostro Presidente della Repubblica, in ogni dove ribadite anche in questo inizio d'anno scolastico. La scuola è qualcosa di fondamentale nella vita. Vorrei chiudere dicendo una massima che mi piace ricordare. Il tempo viene scandito dalle ore, la vita invece viene scandita dalle emozioni. La scuola, così come nella vita, vuole diventare un'emozione positiva perché i nostri ragazzi possano prepararsi al futuro e diventare i protagonisti di domani. Grazie.